A fatto rumore non poteva essere altrimenti la vicenda a Lombardo, il Consiglio Comunale di Scalea e tutto lagone politico da venerdì sono focalizzati su questa faccenda che come detto non era completamente sconosciuta. Dopo l'intervento a gambatesa di Francesco Saverio Di Lorenzo del gruppo Municipalità e Cittadinanza che ha chiesto le dimissioni del sindaco accusandolo di aver truffato la popolazione, è intervenuto anche il consigliere del gruppo Movimento 5 Stelle Renato Bruno. La maggioranza non può essere oggetto di ripicche, è chiaro che se Lombardo fosse stato nominato assessore non si sarebbe autodenunciato, oggi la tenuta della maggioranza non solo è a rischio ma è a rischio la credibilità dell'accordo politico. Renato Bruno si interroga poi sulla posizione del presidente del Consiglio Achille Tenuta che in campagna elettorale aveva più volte parlato di situazioni anomale nella formazione delle liste, salvo poi accettare l'incarico offertogli dalla maggioranza. Ad appoggiare dall'esterno raggiunta di Cursi il gruppo sinistra regionale Calabria di Antonio Forestieri che invoca maggiore coesione il nome del famigerato bene del paese. Nessuna dichiarazione al momento dal gruppo Scalea 3.0 anche se è chiaro che la questione sarà trattata nel prossimo Consiglio Comunale del quale però ancora non c'è traccia di convocazione.